Se si piglia pure la Opel, perché così tanto abbiamo fatto fatica, facciamola bene. E questo ti dimostra che alla fine, prima quelli che fanno le... I pati, come dici, i due gre, falliscono e vengono comprati da quelli bravi. Quindi se lo fa riesce a fare una Fiat, tranquillo. L'unico problema è che quell'azienda, forse, è migliore a lasci perdere. Perché quella è un'azienda, uno zombie che cammina, che tra un po' è morta. Grazie. Alex Giordano, telegrafico, telegrafico, dagli una risposta. No, aggiungo una cosa, tanti anni fa, l'italiano ha comprato le acciaierie. E poi è successo quello che è successo. Noi si è tanto che ci stiamo comprando le automobili vecchio stile, proprio all'alba del tramonto. Di questo aggeggio così come noi lo conosciamo. E non vorrei che poi di tutto questo si celasse un brutto tiro. Sono d'accordo comunque con quello che, come sempre, con quello che diceva Michele. E sicuramente ci sono dei zombie, cioè in realtà siamo alla fine, diciamo, un certo modo di fare marketing.